eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi finalmente è arrivato il weekend oggi torneremo anche in live quindi vi aspetto alle 14 piattaforma viola trovate il link in descrizione prima di iniziare due pro memoria il primo passai dal primo link in descrizione perché ogni acquisto che farete su eneba.com supporterete gratuitamente il mio canale ma soprattutto troverete di tutto e di più dei prezzi assurdi il gold di xbox il game pass di xbox il plus di playstation crediti per comprarvi giochi digitali su playstation l'acquisto di videogiochi del passato e nuovi a prezzi veramente folli guardate che offerta ad esempio incredibile poi tantissimi giochi in arrivo cosa molto importante se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale come già vi ho detto oltre il 40 per cento di chi vede tg code non iscritto ragazzi è gratuito potete disattivare le notifiche però almeno siete tutti iscritti a guardare i tg code mi raccomando mi fa veramente molto piacere e un bel mi piace partiamo con la notizia sicuramente più interessante della giornata di ieri o meglio della notte perché sono state bannate nuove persone quindi in vista della season 5 che inizia il 2 di agosto c'è stata una nuova ondata di ban dato che mi state facendo veramente tantissime domande dopo il video di ieri ve lo lascio in alto a destra con tutta la roadmap e i contenuti di questa season 5 al momento ancora non si sa il peso ragazzi il peso di norma lo so il 2 mattina perché inizia il pre download intorno alle 6 del mattino su playstation né activision né raven software nei finiti world riescono o meglio fanno trapelare questa informazione prima del 2 le patch not usciranno il 2 pomeriggio quindi poi porterò nel pomeriggio un tg code con tutti i dettagli quindi state tranquilli ragazzi che vi farò sapere tutto quanto pre download come sempre confermato solo su playstation nella giornata del 2 sarà a scaglioni nel primo mattino nel tardo mattino ma tarda mattinata e nel primo pomeriggio poi dalle 19 in poi sarà disponibile anche per xbox e pc per quanto riguarda il download poi una volta che si concluderà e scadrà il contratto tra playstation e sony come tra playstation sony activision e call of duty che quanto pare gennaio 2024 dal prossimo anno con il nuovo call of duty dovremo avere non code 2023 code 2024 dovremo avere finalmente i download uguali per tutti quanti e ovviamente disponibili per tutti quanti nello stesso identico istante video raggiornati chiudo e apro e chiudo parentesi allora il profilo di call of duty dedicato agli aggiornamenti sui titoli quindi code update ha annunciato che il team di ricochet ha eseguito una massiccia ondata di ban nelle ultime 24 ore sono stati bannati permanentemente oltre 14.000 account su modern warfare 2 e warzone per cheating e hacking quindi sicuramente ragazzi una buona notizia in vista della season 5 sicuramente molti di voi mi direte amante ma non ci dici più nulla non c'è fatto più aggiornamenti per quanto riguarda lo shadow ban ma purtroppo ragazzi non ve ne posso fare gli aggiornamenti sullo shadow ban ragazzi non riportano notizie non specificano come funziona il sistema ieri ho ricevuto altre due segnalazioni da due mie iscritti che hanno ricevuto lo shadow ban quindi devono aspettare il controllo che dura dai 7 a 10 giorni ragazzi non vi so dire veramente nulla perché non ne parlano minimamente non specificano e non dicono nulla relativamente a questa situazione che sta diventando veramente inverosimile torno a ripetervi se mi scrivono miei abbonati se mi scrivono miei iscritti mi fido ciecamente se mi dicono che effettivamente non utilizzano hack o cheat però veramente non capisco perché questi di activision non spiegano e non sistemano questo sistema dello shadow ban altra notizia e altra domanda che mi fate molto spesso è amante ma perché non possiamo giocare ad esempio mv2 del 2009 su playstation o pc dato che negli ultimi tempi c'è detto che microsoft ha sistemato i server su xbox perché non vengono sistemati da activision anche sulle altre piattaforme è sicuramente una bella domanda non c'è sicuramente una spiegazione al momento ma sicuramente questa è stata una mossa molto intelligente da parte di microsoft che ha sistemato non soltanto i server di call of duty ma anche di tanti altri titoli come gears of war e via dicendo sicuramente una mossa molto legata al fatto dell'acquisizione però al momento né su pc né su playstation questi vecchi code sono al momento giocabili addirittura infini world secondo quanto riportato da tech crunch ha messo offline i server pc di modern warfare 2 del 2009 perché gli hacker stavano diffondendo dei malware attraverso le lobby online quindi sarà sicuramente da aspettare per quanto riguarda la possibilità di giocare i vecchi code su playstation e pc però non vi perdete d'animo perché ci sarà finalmente anche questa possibilità ma parliamo un attimo della season 5 perché da queste informazioni che sono trapelate dall'immagine proprio dell'app xbox di call of duty si capisce un aspetto molto importante infatti secondo l'app xbox la stagione 5 di warzone di modern warfare 2 terminerà il 20 di settembre e come sappiamo bene ragazzi il prossimo call of duty esce salvo qualche giorno o qualche rinvio qualche anticipazione intorno al 10 di novembre bene la stagione 5 relotite dovrebbe arrivare il 30 di agosto quindi che cosa accadrà dal 20 settembre al 10 di novembre ormai ragazzi non c'è più ombra di dubbio che introdurranno una sesta stagione perché ragazzi non possono rimanere senza season dal 20 di settembre fino a novembre ad ottobre secondo i leaks ci sarà addirittura la beta multiplayer di mv3 quindi ragazzi tutto ci porta a pensare che ci sarà ormai al 99,9 per cento una season 6 rimanete sintonizzati perché vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni vi ricordo season 5 il 2 di agosto season 5 relotite il 30 di agosto quindi anche in questa volta la season durerà veramente molto poco non come la season 4 qualche giorno di più però ci lascerà spazio ad una ultima stagione altra notizia molto interessante per chiudere il tg code interessante perché sorprende sempre di più dopo tutti gli annunci che ha fatto infini world prima di mv3 che sarebbero arrivate skin dedicate all'ambito della guerra tutto legato al mondo militare vi dicendo abbiamo visto che arriveranno i rapper abbiamo visto che ci sono stati i bundle topi i bundle con i gatti e di tutto e di più adesso addirittura ci sarà una collaborazione con una delle più grandi gnocche del mondo parliamo di Lara Croft infatti Lara Croft di Tomb Raider arriverà come personaggio giocabile su call of duty modern warfare 2 e warzone a metà stagione 5 secondo quanto riportato proprio un annuncio ufficiale sul playstation blog quindi altro importante crossover altre importante collaborazione di call of duty con il mondo diciamo dei film dei videogiochi e via dicendo sicuramente ci sia diciamo così ci azzecca più una Lara Croft all'interno di call of duty che veramente un una mini un Nicki Minaj o un altro rapper e via dicendo 21 Savage quindi sicuramente un po' più calzante se vogliamo definirla così però sinceramente sarei andato su tanti altri personaggi come John Wick e via dicendo come collaborazioni staremo a vedere vi farò sapere vi farò vedere in anteprima nei prossimi giorni le prime immagini che sicuramente saranno licate dopo l'aggiornamento della stagione 5 quindi rimanete sintonizzati lasciando un bel mi piace iscrivetevi mi raccomando tutti quanti e ci vediamo oggi alle 14 live quindi se ancora non avete fatto andate a mettere l'iscrizione anche sulla piattaforma viola noi ci vediamo più tardi e domani con un tg code nuovo di zecca